Circa 100.000 euro per la pulizia e sistemazione dei fossi di competenza comunale. È l'operazione messa in campo dal Comune di Pesaro per realizzare interventi di prevenzione strategici, fondamentali per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini e per fronteggiare al meglio gli eventi climatici sempre più estremi. Tecnici e macchine sono al lavoro per la pulizia dei vari fossi, sparsi tra i quartieri di Vismara, Villa Fastigi, Monte Granaro e Muraglia, ma anche Cattabrighe e Colombarone. Parliamo di 100.000 euro che abbiamo messo a disposizione dell'ufficio di manutenzione per occuparsi dei fossi. I fossi principalmente sono ad esempio nel quartiere di Monte Granaro e Muraglia, Colombarone, nel quartiere della Celletta, ma soprattutto anche a Cattabrighe e Vismara che ricordo dove c'erano stati i danni legati all'ultima alluvione che aveva rovinato, completamente distrutto il campo da calcio e anche qui i lavori partiranno tra circa una settimana. Quindi una dimostrazione concreta di un intervento che avevamo previsto, che avevamo previsto in campagna elettorale e che abbiamo confermato con i primi atti che siamo riusciti a fare. Il comune di Pesaro ha destinato 40.000 euro di risorse per rispondere alle richieste dei cittadini e della società sportiva del Vismara Calcio. L'intervento permetterà anche di mettere in sicurezza il campo da calcio. Strategici anche i lavori al Fosso Falcineto a Villa Fastigi, segnalato dai pesaresi in più occasioni. La manutenzione dei fossi per il 2024 non si concluderà con questa prima fase. È già stata stilata la lista dei siti su cui i tecnici interverranno nella prossima tornata di lavori previsti in autunno. Io ritengo che la manutenzione sia fondamentale perché è meglio prevenire rispetto che intervenire solamente ad anno avvenuto. Non sarà semplice trovare le risorse per riuscire a sistemare tutti i fossi che abbiamo in città però sicuramente è un inizio di un percorso perché la giusta attenzione rispetto al territorio è quello che ci è stato chiesto durante il giro che abbiamo fatto.